ecco il nostro segno grazie madre grazie per questo duono questo è un segno d'amore fate silenzio venite a vedere venite a vedere il segno gli avevo chiesto un segno alla madre lo vedete cosa non lo vedete va beh lo vedrete dopo ambo viene a vedere il segno guarda il segno gli ho chiesto un segno alla madre guarda sì sì la vedi fantastico la vedi è lei la vedi amore grazie dio padre madre grazie padre adonai grazie 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 un cuore guardate c'è un cuore grazie madre segno bellissimo è stato impressionante grazie madre grazie padre grazie dio padre adonai grazie 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 mamma mia avete visto amore c'è anche una scritta in braico in alto fantastico fantastico grazie c'è scritto l e poi leggiamo la scritta dopo grazie 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 padre madre amen